Ciao a tutti! Oggi prepareremo il Danubio pizza. Il tempo di preparazione della ricetta è di tre ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manidoba, farina di tipo 00, olio di semi di girasole, latte, zucchero, sale, lievito di birra e per farcire prosciutto cotto, salsa di pomodoro, scamorza a cubetti e parmigiano grattugiato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. e lo facciamo sciogliere per due minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di tipo manidoba, la farina 00, il sale e l'olio. ed azioniamo il bimbi per tre minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, lasciamolo lievitare all'interno del boccale per almeno un'ora. trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato. Adesso lo trasferiremo su un piano di lavoro e lo divideremo in 15 parti. Una volta che abbiamo diviso l'impasto, adesso farciremo con un po' di salsa di pomodoro, un pezzetto di prosciutto e un cubetto di formaggio, uno o due cubetti circa. chiudiamo. formiamo una pallina e posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno e proseguiamo così con tutto il resto dell'impasto. spegnellare adesso ogni pallina con la salsa di pomodoro. mettiamo un po' di origano e spolverizziamo con un po' di parmigiano. adesso facciamo lievitare per almeno un'ora in forno spento. trascorso il tempo, adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti circa. il danubio è pronto, lasciamolo intiepidire prima di servire. danubio pizza grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti